Allora parto da Fiorentina Milan che si è giocata ieri sera, sono con Stefano Brandini per il calcio nel sedere perché il calcio nel sedere è il primo, lo voglio dare io, lo voglio dare. Ma te nella mia tradizione, te il calcio nel sedere lo pigi, no no, te non proporre, te sei qui, tra l'altro oltretutto tra poco sarai esautorato da questa rubrica, anche per motivi che diremo in seguito. Eravamo domenica sera a scena con Pupo ed è venuto, no scusa, eravamo sabato sera a scena con Pupo, è venuto da Lodi, quindi un milanista, fans di Pupo e uno dei collaboratori di Pupo, Giancarlo, da persona a nome alla quale gli ha detto vieni ti porta a vedere la Fiorentina e l'ha portato in mezzo ai tifosi della Fiorentina. A questo milanista che aveva un tatuaggio sul braccio del Milano, gli ho detto almeno mettetevi la maglia a mani che lui. Che ora è il prognuno di riserva? No, io ora stamattina infatti mi sono interessato, dice che alla prima rete del Milano, chiaramente a questo gli è venuto da risultare, non c'è solo un casino. Quindi il calcio nel sedere lo do a Giancarlo che non si porta al milanista in mezzo. Ma chi ti dice che ne abbia fatto apposta? Il secondo lo do a Mutu, perché Mutu, te che sei un intenditore di calcio che segui, l'ultima volta che ha segnato, come fa sempre, si è tolto la maglia, ha beccato l'ammunizione, per insomma l'ammunizione eri sera non giocava, quindi è una regola del cavolo questa della maglia, ma se c'è va rispettata. I presidenti dovrebbero multare di 100 mila euro i calciatori che si tolgono la maglia e dargli in beneficenza alle famiglie, bisogno tipo la mia. Oltretutto poi con tutta la virginità che deve recuperare Mutu a Firenze, quel casino che ha fatto, voglio dire. Quindi sai, se fosse stata una situazione particolare, Mamuto lo conosciamo, fa parte degli incorreggibili come Cassano e come colui che prende il primo calcio nel sedere che è Ibrahimović. Cioè ieri sera c'è inutile che poi ci chiede un scusa, dice ce l'avevo con me stesso. Cioè questo ogni volta che lo inquadrano sputa e offende, sputa e offende. È tornato da due giornate di squalifica, era nervoso e ingiustificato da morire. Ma guarda che Mutu è Ibrahimo, credo siano della stessa tribù, eh? Sì, penso di sì, ma quantomeno della stessa tribù mentale. Io voglio domandare questo, ma se la Fiorentina, che tra l'altro in quel momento, dopo 60 minuti di grande Milano, ma che in quel momento stava spingendo, avesse pareggiato. Allora oggi a Ibrahimovi c'è il Milano, cosa dovrebbe fare? Io dico quindi che se si deve fare 100 mila euro di multa, chi si toglie la maglia, ed è giusto, perché alla fine questi lo fanno per far vedere il fisico e i tatuaggi, no? Noi si dovrebbe viaggiare nudi. Noi si dovrebbe viaggiare col tanga. Allora, la prossima volta ho tutti e due col pisello. Io ce ne ho anche noi i tatuaggi, mica ce ne ho solo noi. Io ce ne ho uno addirittura nel pisello. No, non è che nel pisello, c'è solo il tatuaggio lì, non c'è il pisello. No, allora c'è un tatuaggio nel glande, se ti interessa. Nel piccolo, no, non è glande il tuo, il tuo è piccolo, dai. C'è scritto L4, capito? Che quando è in erezione, Leonardo Franceschi, 21 luglio 1950. Vabbè, quindi praticamente ci vuole il microscopio. Allora, tornando a Ibrahimovi, scusa, perché ora parliamo seriamente. Quindi pensa, Ibrahimovi ci ha buttato fuori, pensa se la Fiorentina poteva valersi anche di Mutu. Sì, sì, appunto. Pensa se la Juve non avesse vinto, perché la Juve ha vinto ormai, rispetto alla Fiorentina, è imprendibile, no, per le coppe. Ma se la Juve avessi... Sì, ma insomma, si creano dei danni collaterali che sono pazzeschi. Quindi questa gente, io spero che il Milano oggi faccia... Anche perché il Milano si è reso conto di una cosa, che fondamentalmente nel calcio c'è bisogno della gente che ha voglia di giocare. Non a caso nel derby ha vinto 3-0, meritatamente senza Ibrahimović. Quindi che gli facesse 250 mila euro di multa, visto che piglia un milione d'euro al mese, con 250 mila euro almeno ci paga tutte le maestranze del campo dei milanieri. Ma poi no, anche in beneficenza. Ma poi basta. Sono begliati. Ma poi basta questi atteggiamenti di questi giocatori, che li vedi, ma tutti, eh, nessuno escludo, che si voltano a questi guardie, oh, ma che cacchio, oh, ma che cacchio. Ma basta, ma basta, buzzurro, che guadagni un milione d'euro al mese, ma sei un troglodita. Basta, vai a scuola. Con quei soldi prende un insegnante privato e impara l'educazione. Il secondo calcio iniziativo lo prende il Palermo, ma soprattutto il suo presidente Zamparini, che anche quest'anno è riuscito a rompere il giocattolino. Questo mangia allenatori alle prime difficoltà, che poi non si sa, io sto parlando del primo De Giorossi, che mente aveva, perché comunque era quinto, sesto in classifica, una classifica che era quella del Palermo, ha mandato via De Giorossi, ha destabilizzato un ambiente, ha chiamato Cosmi in 1.500 difficoltà. Cosmi probabilmente ha fatto anche se errori, ma ha trovato un ambiente distrutto. Rimanda via Cosmi, chiama De Giorossi, il risultato qual è? Che ieri, in quattro minuti, nel pieno recupero, il Cesena fa il miracolo, che poi ci si mette anche la sfiga. Quindi complimenti a Zamparini, che anche quest'anno, con le sue scelte... L'altro anno il Palermo avrà anche la panchina per gli allenatori, ne porta in campo tre o quattro. Ma l'hai sentito, c'è negli occhi che ha detto, dice, è partita una nave con 1.500 profughi, sono tutti gli ex allenatori di Zamparini. Poi, l'altro calcio in sedere lo prende Comotto, il quale, con una sceneggiata, abbraccia lui il braccio di Sidor, e si buttano in terra, è palese, ma non solo. Ci hai provato in quel momento? Io posso anche dire che nel calcio ci sta di provarci, ma non per orare la causa, perché sei ridicolo, no. Ci hai provato, è andata male, chiuso. E poi, l'ultimo calcio in sedere, la Sampdoria. La Sampdoria si è privata dai suoi gioielli, ha rotto un determinato equilibrio. È una squadra, comunque, tuttora nettamente migliore di quelle che si devono salvare, però c'è entrata la Gramigna, l'incubo, e lo spettro della Serie B si avvicina, sarebbe veramente un dramma, ma la classifica oggi dice che la Sampdoria non può più commettere errori. Poi l'ultimo calcio in sedere, lo prendi te, perché il penultimo non è di che sei stanzi, cioè te dirigi una televisione che è la tua, e non ci sei. Ma io andrò, sarò il vostro corrispondente da Grosseto. Ah, a Grosseto? A Grosseto, sì. A che vuoi fare a Grosseto? A fare il corrispondente da Grosseto. Sul baseball che fai? Sul calcio. Perché proprio a Grosseto? Perché Gia Ritondo va anche su TV9. Ah, quindi a Grosseto. Quindi a Grosseto. Sì, che è un sacrifio, lo fai con grande sacrifio. Certo, come tutti gli inviati di guerra. Pensate che a carnevale da bambino si vestiva tutti i carnevali da Pinocchio. Arrivederci a tutti, buon lunedì, buona settimana. Sì, Pinocchio, con la P. Ciao. Ciao.